Non ho mai pensato che sia il Ministro della Giustizia, se non è la mia formazione, sia giuridica o altro. Il mio sogno è venendo a una terravocazione agricola, una famiglia assolutamente più preditoriale agricola, essendo cresciuta a fare il vino più che a fare l'acqua. Io nella vita volevo fare esattamente questo, il Ministro dell'Agricoltura. Era quando mi sono approcciata all'Agricoltura. Io non ho pensato alla destra e alla sinistra. Mi ho pensato oggi che non penso alla destra e alla sinistra. Io penso all'azione di buon senso. Io penso alla politica che è a servizio del territorio, dell'agenzia, degli agricolatori. Io ho pensato ad agircisco ogni giorno, come se fossi un imprenditore agricolo santo me che non mi nasce. E questo è un ricolo sempre. Grazie. 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 Grazie.